Bene, terza sessione, Gianluca mi ha comunicato che sono secondo in classifica, pensavo di aver rovinato tutto quanto, invece no. E ora possiamo ancora giocarci le nostre chance. Andiamo! Questo sembra che vada meglio dai! Scaliamo un po' le gomme. Questo sembra che prenda un po' di più in basso, dai! Grazie a tutti! Perco, due euro, lento! 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 Perco, due euro! Perco, due euro, lento! Perco, due euro, lento! Perco, due euro! Perco, due euro, lento! Perco, due euro, lento!